io penso che l'imprevisto naturalmente produce un sommovimento il punto straordinario che penso faccio il confronto con la francia per renderla più evidente la francia ha un movimento di lotta certamente non inferiore a quello italiano anzi comincia essendo l'epicentro dello scontro è il maggio francese e già nel maggio c'è la combinazione tra lotta studentesca e lotta operaia basta pensare che jean paul sartre va a biancourt cioè il più grande stabilimento dell'automobile parincino quindi diciamo le premesse sono sono analoghe non ho simili mi verrebbe da dire sono uguali le premesse che cosa fa la diversità per cui una esperienza quella francese si esaurisce in qualche mese naturalmente conosco la differenza di una esperienza che si fa nella francia governata da de gaulle e l'italia poco governata dai governi di centrosinistra conosco la differenza però non è questo l'essenziale l'essenziale è che il maggio francese con il suo straordinario e insegnante sebbene non così direttamente cosa vogliamo vogliamo tutto vive la connessione tra lotto operario e studentesca e lotto il tarotto per aiuto studentesco ma non trova il bandolo della matassa per affermare la continuità per dare cioè una strumentazione e una piattaforma in grado di far vivere questo incendio in una prosecuzione che che riduce di poco la fiamma ma la la diffonde e la rende permanente l'originalità italiana e proprio sindacato dei consigli secondo me io continuo a pensare che il 68 69 non è capito per intero neanche dalla pur grande sinistra italiana neanche dal più grande partito comunista che pure naturalmente ne appoggia l'onda di fondo ma secondo me che non ne intende il carattere radicale la domanda più di fondo cioè di cambiamento radicale che nasce dalla rivendicazione di potere e investe il modello che allora si chiamava di sviluppo che chiede cioè un cambiamento dei rapporti di classe con tutta la radicalità di questa portata io penso che il sindacato dei consigli invece la intende e la via la intende la viva in larghissima parte a a partire dal fatto che il sindacato dei consigli costituisce una modificazione radicale rispetto alla sua torre precedente nelle nelle forze politiche questa discontinuità non la si vede c'è una discontinuità nella storia del paese c'è una discontinuità nel conflitto di classe il sindacato accoglie questa discontinuità e passa dal sindacato confederale al sindacato dei consigli la sinistra politica anche quando appoggia i movimenti come nella vicenda del partito comunista italiano tuttavia non è interpreta questa radicalità e non la riporta su di sé in termini di autoriforma il sindacato lo fa il sindacato lo fa e lo fa in questa tensione io credo che bisogna riconoscere alla cgl di luciano lama la il coraggio di avere accolto la domanda di fare dei consigli la struttura di base del sindacato guardate questa cosa non era affatto scontata per niente basti pensare al conflitto al dibattito che c'è sempre stato tra il sindacato istituzione e sindacato movimento basti pensare che allora ancora viveva in una parte del sindacato l'idea del sindacato associativo è fatto dai soci che attraverso procedure democratiche e accumulazioni di sapere sindacali diventano protagonisti di una storia la scelta della cgl quindi la scelta di lama e della cgl è una scelta non priva di contrasti interni anche molto forti anche nella sinistra politica c'è una c'è una resistenza molto forte perché si ritiene che attraverso questa questo passaggio si possa operare la coscienza di classe e il primato diciamo così della politica se non del partito ma anche il sindacato ci sono resistenze consistenti si si teme di perdere che cosa la natura del sindacato confederale di classe e quindi c'è una resistenza fortissima i protagonisti di questa svolta naturalmente sono le aree più combattive dell'esperienza del 68 69 e in particolare un sindacato io credo che bisogna dirlo così per 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 onestà intellettuale il sindacato di metalmeccanici infatti saranno sarà il sindacato di metalmeccanici a dar vita a quella forma di sindacato senza la quale non possono vivere i consigli che è il sindacato unitario cioè non può non possono vivere i consigli che sono per loro natura unitari nel senso che sono l'unità della compagine lavorativa e riferirsi a un sindacato diviso perché è ovvio che prima o poi queste divisioni penetrerebbero all'interno del sindacato non puoi far vivere una struttura di democrazia diretta senza un'interlocuzione con un sindacato unitario e infatti il sindacato di metalmeccanici che che dentro le esperienze lo dico con rispetto a tutte le altre perché sono ce ne sono di importantissime penso ai petrochi chimici ce ne sono tanti essi quanti alimentaristi no non faccio una gerarchia dico semplicemente che il sindacato di metalmeccanici proprio perché stanno sull'epicentro dello scontro che è la grande fabbrica e la grande fabbrica la più grande delle quali è quella automobilistica riesce per questa via a proporsi come la punta della lancia dell'unità e costruisce infatti la flm la federazione dei lavoratori metalmeccanici io ho fatto l'esperienza torinese negli anni 70 eravamo indistinguibili assolutamente indistinguibili io non avevo alcuna differenza da uno della cisa a uno della ruina nessuna differenza perché il sindacato piemontese come la flm era si diciamo sia tutto lanciato sulla costruzione del sindacato unitario per una ragione precisa per andare corpo e consistenza sindacato dei consigli e io credo di aver fatto due o tre congressi di scioglimento della cgl piemontese per poter fare l'unità che poi purtroppo non siamo riusciti a realizzare per dire quanto fosse avanzato quel processo negli anni 70 quindi il sindacato dei consigli che nasce porta con sé una spinta al sindacato unitario che alcune aree più interne ai movimenti traducono esse medesime tanto che a un certo punto nel dibattito su unità sindacale nasce la tesi dell'unità a pezzi cioè a dire siccome non riusciamo per le resistenze che venne che si trovano soprattutto dentro la cisa che fa due congressi su unità sindacali quindi non riusciamo a passare qualcuno dirà che è colpa del pc secondo me questa tesi è infondata però non riusciamo a farla qualcuno dice secondo me con qualche fondamento soprattutto nei metà meccanici facciamo l'unità a pezzi cioè quelli che sono in grado di portarsi a fare il sindacato la faccia anche qui si incontrano delle resistenze l'attesi no non passa e rimaniamo con questa condizione durale con una totale unità organica in fabbrica e con una unità che mantiene in piedi però le diverse forme di organizzazione sindacale confederale fuori dalla fabbrica con esperienze tuttavia invece più avanzate unitariamente ho citato quella delle flm ma a livello torinese è stato così nella stessa nella stessa misura questo processo ecco questo processo secondo me avanza finché vive un protagonismo del conflitto sociale capace di realizzare delle conquiste c'è tutta la stagione della riforma insisto su questo punto le riforme sociali dello stato sociale in italia vengono fatte sul rapporto conflitto operaio prove di contratto legge ecco accade così per la sanità accade così per la scuola accade così per le pensioni e questo movimento influenzerà anche le conquiste civili riferendo sul divorzio e sull'aborto fino penso sulla sanità a realizzare delle conquiste che veramente parlano del futuro come l'abbattimento dei muri dei manicomi che c'entra come come la contaminazione positiva con i movimenti femministi con i movimenti ecologisti che muove in tutta quella in tutta quella stagione che infatti fino all'ultimo pensa che sia possibile il cambiamento cioè che questo che questo accumulo di forze possa possa portare a un mutamento degli assetti generali della società i codi si salta e tu o passi o ti esponi alla contrazione alla reazione di quello che è accaduto